Parliamo adesso del nostro bagno doccia. Importante da notare che vengono utilizzati esclusivamente tensi attivi di origine vegetale e quindi il nostro bagno doccia è anche molto attento all'ambiente. Il resto degli estratti sono estratti vegetali, abbiamo l'estratto di erba medica che ha la sua attività antiossidante, rimineralizzante e protettiva. All'interno troviamo molti oli essenziali che danno una gradevole profumazione ma non solo, hanno anche delle spiccate attività di migliorare il microcircolo, aumentare la tonicità della pelle. Troviamo infatti l'olio essenziale di limone, di mandarino, di bergamotto e di lime. Il lime in questo caso viene usato anche come astringente, anche come antibatterico e funziona anche da conservante per questo tipo di bagnoschiuma. Esiste anche all'interno l'estratto di avena, che è un emolliente, è un idratante e l'estratto di malva e il succo d'aloe che contribuiscono a rendere delicato l'utilizzo per l'utilizzo quotidiano.